VisionFit di adattica distribuita da IsaVision Technology è un'innovativa unità refrattiva wireless indossabile con lenti adattive a controllo elettronico. Consente di effettuare un esame refrattivo mantenendo il soggetto in una postura naturale. Tempi di esami ridotti e mobilità sono i suoi punti di forza. Le lenti adattive sono controllate da una console installata su tablet con connessione bluetooth.